A Loreto si studia Lorenzo Lotto. La direttrice dei Musei Vaticani Barbara Iatta ha annunciato l'8 settembre 2023 l'istituzione di un centro studi dedicato a Lorenzo Lotto. Il centro studi si troverà a Loreto, paese famoso per i pellegrinaggi dedicati alla Madonna e la presidentessa sarà la stessa Barbara Iatta. Perché Loreto? Perché Lorenzo Lotto trascorse gli ultimi anni della propria vita a Loreto lasciando alla Santa Casa, che è un museo, tutti i suoi avueri dove oggi sono conservate otto opere. Il centro studi ha lo scopo di promuovere la ricerca e la conoscenza su questo grande maestro del rinascimento. Come nel passato a Loreto si uniscono arte e religione. Sempre qui sul canale youtube potete godervi una bella galleria di opere di Lorenzo Lotto.